Vetture impegnate che partono in questo momento per questo gruppo A Finale del gruppo A Il numero 244, Calt I numeri sono più grossi, li vediamo anche noi Devo dire una cosa che da apprezzare nelle vetture del campionato svizzero I numeri sono belli evidenti Poi abbiamo in seconda posizione Marti, in terza Schmid E poi via via tutti gli altri Adesso siamo giusti di vedere cosa succederà Intanto Marti si allarga un po' a Schmid, cerca subito di puntarlo Eccoli qua, grande battaglia con Schmid che riesce a superare Marti Davanti ricordiamo ancora c'è Calt, numero 244 Ma Marti non si dà per vinto E vuole risuperare Schmid Grande battaglia con Schmid che è andato pienamente a fare il palo Per il nuovo esterno Poi più staccato Ace, il secondo Farri a 7 secondi Kaiser, e tu e Kaiser anche qui Ovviamente si gioca molto in famiglia come del resto che hanno bisogno che nel campionato italiano Assolutamente sì Diaz, Reichmut, Grosjean e Steinberger Per completare i 12 che stanno dando vita a questa finale della cattoria A E loro con impegnati ora già arrivano alla cittura del secondo giro Come dicevamo, saranno 7 i giri di finale a 3 capasoli C'è un netto di varie di prestazioni tra le prime vetture E quelle che si è proprio in furia la battaglia per le posizioni di rincalzo Ma bisogna dire che Calt ha preso un netto vantaggio nei confronti dei piloti che lo stanno inseguendo Lo possiamo notare molto bene qui dall'immagine da lato Eccolo là Con tanto di vantaggio sui due inseguitori più prossimi Schmid, Marti e poi Farri Eccolo è andato sempre molto bene anche durante le tre hit disputate Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.